perché mi viene sempre gesticolare il 5 ottobre esce windows 11 il nuovo sistema operativo di microsoft che vuole portare modernità in primis sotto l'aspetto grafico non sto qui a farci una recensione ne hanno parlato in tanti anche in troppi quindi mi limiterò a parlarvi della preparazione a questo aggiornamento allora prima di tutto apri chiudo una parentesi sull'esperienza da insider che ho avuto finora con le build di anteprima rilasciate rispetto alle prime versioni di test di windows 10 devo ammettere che queste qui sono state decisamente più stabili l'ho notato con delle impressioni delle sensazioni e più oggettivamente con dei benchmark non sono state nemmeno tanto pesanti come dimensione da scaricare inoltre tutto il sistema è stato ben tradotto fin dall'inizio la maggior parte dei contenuti era in italiano ricordo che con il 10 si aveva su per giù metà scritto in inglese e l'altra metà nella nostra lingua va bene detto questo direi di passare al vero argomento del video vero verificare se il proprio dispositivo può ricevere in tranquillità questo 11 o meno per farlo sfrutto la soluzione di isas azienda che vi ho presentato in degli scorsi video quelli più aggiornati sull'argomento si chiederanno ora perché questo non utilizza direttamente lo strumento fornito da microsoft la mia risposta è questa quello strumento finalmente restituisce dati più chiari e dettagliati prima era troppo sul generico ma isas offre un qualcosa di più completo degli strumenti che facilitano il passaggio da un vecchio windows a questo nuovo compreso un rimedio nel caso adottiate ancora un sistema bios anziché uefi fatemelo dire in pronuncia italiana per semplificare mi spiego meglio su quest'ultima cosa windows 11 vuole unicamente l'architettura a 64 bit e vabbè anche il system on a chip ma per quanto riguarda il 64 dal 2020 ha completamente sostituito il 32 bit con esso di conseguenza windows 11 vuole come tipo di memoria il gpt perché appunto va normalmente a braccetto con l'uefi per chi ha ancora il programma bios il 32 bit ha con ogni probabilità il disco partizionato in mbr e perciò non può passare a questo 11 se possibile occorre fare un passaggio dalla tecnologia più vecchia a quella più attuale qui si aprirebbe un argomento gigantesco parlando di firmware tipi di dischi eccetera ma a noi interessa l'applicativo che mette a disposizione isas per fare questa trasformazione partition master pro per far ciò bisogna acquistare la licenza la versione gratuita non permette questa conversione è una licenza vita pagata una volta per avere tutte le funzionalità 54 euro e 95 centesimi per la professional e 240 per la server nel caso più comune vi serve questa di mezzo non ci faccio una guida altrimenti il video diventa lungo si allontana dal tema di oggi e sicuramente tutti voi avete un pc fabbricato dal 2010 in su poi intervengono gli altri facilitatori passatemi il termine di cui parlavo prima pc trans salva tutti i tipi di dati che preferite portare sul nuovo windows il trasferimento di questi può avvenire in tre modi tramite rete connessione internet per i veri che di archiviazione quindi usb hard disk sd eccetera file immagine è più che altro utile per spostare i programmi gli account dati più difficili rispetto al classico taglia in colla che si può fare per una foto da un disco rigido un altro sempre per i programmi in questo modo evitate di riscaricarli nel nuovo os o facendovi risparmiare tempo per i lunghi scaricamenti da affrontare todo backup effettua un backup del sistema in uso che può comodamente essere utilizzato nel caso questo windows 11 presentasse problemi o più in generale non viene apprezzato oltre a quello di sistema è possibile farlo su determinate cartelle file e anche su interi volumi di sistema ecco questi sono i tre principali che i sas mette a disposizione ripeto è un modo che agevola questo cambio di sistema operativo ciò non toglie che possiate utilizzare già degli strumenti integrati nel sistema penso al passaggio da mbr gpt oppure opzioni manuali come il già detto taglia in colla semplicemente questi tre vengono specialmente in soccorso agli utenti meno esperti che magari non sanno come fare il cambio da bios a uefi tramite il prompt e anche per chi vuole velocizzare l'operazione con pochi clic invece di andare a raccattare di qui e là file salvati in memoria prima però di utilizzarli sarebbe meglio verificare se la macchina è in grado di dare il benvenuto a windows 11 scaricate updates choker è un eseguibile da soli 2 megabyte che se avviato vi avverte se il vostro hardware può essere compatibile o meno spero una rimozione di questo messaggio perché non si può chiudere bisogna per forza cliccare su uno dei seguenti social ma vabbè sottigliezze andiamo avanti ecco qui il resoconto tutto positivo sono quindi pronto per ricevere questo 11 se qualcosa andasse male ecco che vi metto una schermata ad esempio per quando lo strumento rileva incompatibilità se volete vi spiego brevemente quelle che hanno più necessità di essere capite e che brutta frase ho fatto voi volete perciò per quanto riguarda l'ultima voce il tpm che cosa è dove si trova ne ho parlato recentemente in un video spiegando un problema di cui nessuno ne parlava per vostra curiosità poi ho risolto mi è bastato aggiornare il bios di msi perché l'ultimo aggiornamento ha portato la piena compatibilità a windows 11 una versione rilasciata qualche giorno prima della distribuzione a larga scala di questo 11 ma vabbè meglio tardi che mai è da giugno che le build pubbliche sono iniziate questo tpm deve essere 2.0 fino ad ora andava bene anche la versione 1.2 ma adesso o 2.0 oppure dovete andare a fare degli script delle modifiche roba da smanettoni che per l'utente comune se ne può fischiare altamente non ho detto cos'è in grandi linee ha un sistema di protezione un chip crittografico che va a garantire maggiore sicurezza per andare contro a manomissioni non autorizzate detta proprio nella maniera più semplice possibile si può trovare a livello software nel senso che è già incluso nella scheda madre o a livello hardware un chip proprio da installare fisicamente nel mio caso l'ho già integrato nel circuito visto che il mio modello di scheda è recente avvio sicuro è l'avvio protetto una funzionità nata con l'uefi recito lo scritto della documentazione microsoft per far prima l'avvio protetto è uno standard di sicurezza sviluppato dai membri del settore it per garantire che un dispositivo venga avviato usando solo software considerato attendibile dal relativo produttore oem va bene dai io direi di concludere spiegate tutte queste cose altrimenti faccio un po facciamo un po di confusione se cliccate sul pulsante passa windows 11 verrete rimandate una pagina di sas che vi elenca le principali novità di questo seo e tutti gli aspetti correlati al tema quindi lo strumento di verifica che vi ho mostrato oggi come scaricare in questo momento l'undici e come si scaricherà quali sono i suoi requisiti e una serie di domande rispose del tipo è gratuito che differenza c'è col 10 insomma questa roba qui bene tutti i link che vi servono li trovate in descrizione se la spiegazione è stata utile non dimenticate di lasciare un bel mi piace per supportare tale se proprio quest'ultimo interessante considerate l'iscrizione tramite il bottone rosso a presto